La Francia vola in semifinale di Euro 2024. A deciderla è stato Teo Hernandez che ha realizzato il rigolo vincente. La Francia è l'unica squadra nella storia degli europei ad arrivare in semifinale senza aver fatto un gol su azione in tutta la competizione. Eliminato quindi CR7, il campione portoghese, sperava di chiudere la sua esperienza nazionale con un trofeo ed invece nulla di fatto per l'ex Juventus. Secondo voi allora la Francia vincerà l'europeo? Diteci la vostra nei commenti. Ciao!